Vi presentiamo il nuovo modello WinBak Back 4, il più potente e avanzato dispositivo per la Tecker terapia mai creato. Per la prima volta eseguirete un vero trattamento Tecker utilizzando le modalità capacitiva e resistiva contemporaneamente. Potente, innovativo, veloce e in continua evoluzione. La tecnologia brevettata WinBak Quad Core è alimentata da due generatori liberando la fonte ottimale di energie contemporaneamente attraverso due canali. Liberare le energie Alta frequenza, high tense e IMS WinBak reinventa le correnti non invasive per attivare il metabolismo del corpo umano. Una migliore impugnatura, portatile tutto in uno, con elettrodi regolabili e cambio modalità. Con Tecker X eseguite tutte le vostre pratiche con entrambe le mani contemporaneamente e in pochissimo tempo. Ampliate le aree di trattamento Esplorate le possibilità Trattate le patologie più complesse Il vostro paziente Il vostro trattamento La vostra esperienza La vostra Back 4 Il vostro turno